Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri a te. benvenuti a un nuovo video oggi è un video particolare il compleanno questi sono i tuoi grazie a tutti voi andiamo gli apriamo vai da dove iniziamo fa vedere allora ci sono io no questi sono regali dalle persone che ci seguono e ci vogliono bene alcuni di voi avete messo il nome alcuni no quindi vediamo se c'è il nome guardiamo nella scatola questo non ce l'ha ok allora ringraziamo la persona che ti ha fatto questo regalo grazie guarda questo video scrivo nel commento che ti ringrazio tantissimo vuoi metterlo adesso dopo dopo ok ora siamo riusciti ad aprirlo che forze che figata sembra come i joysticks della playstation questo mi ricorda più da nintendo che ha due colori uno sopra uno sotto questo invece da questo non so chi ha messo bellissimo bellissimo ma è lungo bellissimo forse è compatibile con tutti i telefoni si sistema android bello bello le istruzioni per chi non conosce daniele lui disegna bene tanto cioè almeno questo lo dicono disegni veramente bene lo devi dire proprio però adoro manga adoro i manga si ma che bello questo l'adoro l'adoro questo e questo questo manichino che aveva anche il mio prof di arte l'abbiamo chiamato pino abbiamo disegnato una faccia quando non c'era non si dicono però lo fanno tutti bello modello è questa devi usare la tua immaginazione altrimenti la faccio vedere da vicino perché è veramente bello come tutti i regali che hai ricevuto grazie per questo che bello poi questo che è piccolino e questo che sembra una specie di palla di rubik nome inventato da me proprio antistress eh beh si è un po' duro ma è antistress il più grande adesso no è quella si è la pastiera c'è anche il il tappetino che bello siiii è bello il mouse adoro cosa ti serve? per gioco a play anche per il computer ora al prossimo così quando te li metti? adesso capisco da cosa hanno preso il poppet eh ah beh certo io guarda per me questi sono un antistress l'antistress degli anni 90 invece i poppet non è che li capisco molto eh vabbè però anche te su bello è bellissimo lo adoro che bello hanno anche i microfono qui e i led che figata sei bellissima comodissime adesso sto tutto il video così no devi sentire la tua bolse no? eh ok allora così va bene ok allora il prossimo questo non chiedetemi perché minecraft eh no penso che lo capiscano perché minecraft eh bello bello adoro pantaloni anche eh eh sì è una tuta che bello guarda la tua sorella sorride che bello sentire che bello che bello ora me la metto piano che si rompono lo so quando Dani dice guarda che enorme guarda che bella guarda che grande perché mi piacciono queste non so grosse e in più anche scarpe nere sì dobbiamo dire che c'è stato un piccolo incidente nel senso che è arrivata la misura sbagliata ma noi l'abbiamo fatta trovate le stesse scarpe però nere e le abbiamo cambiate belle adoro stanno veramente bene vedete sei un po' dark quest'anno non so bello complimenti ottima scelta grazie spettacolo questa felpa Dani bellissima adoro però sto volendo di caldo togli fai vedere l'ultima felpa TNT TNT eh Minecraft esatto sì vai io in frattempo vi faccio vedere questo bellissimo pigiama credo che sia meraviglioso e questa felpa poi leggiamo tutti i bigliettini bellissimo è qui ovviamente ok ve lo fa vedere addosso sì aspetta ecco ecco stai diventando proprio grande eh lo so stai diventando grande ecco grazie per tutti questi vestiti grazie grazie per questi regali ma c'è ancora ah sì ci sono gli accessori questo quando vai andrai in piscina quando andrai in giro quando avrai i tuoi soldini guarda lì c'è il portafoglio che ormai sei abbastanza indipendente quindi giri giro tanto giri e allora è bellissimo lo puoi anche usare per la scuola certo sicuramente non quando vai a scuola quando va pesante però una roba per lo sport per ah sì comodissima bene adoro bene però muoio di caldo quando è tutto nero non è vero perché questa è roba per quando fa freddo quindi non morirai di caldo anzi starai bene adoro questo è per la piscina questa è per la piscina la piscina molto capiente è bello si è enorme eh certo deve starci la roba al capatoio tutto tutta la roba della piscina qua dentro questo invece per la scuola questo io faccio sport si leggerissimo per le scarpe da da ginnastica ora ti porto le forbici eh forbice adoro eh sì bello è capimentissimo rispetto a quello eh sì vado in giro così vado in giro così vado in giro così vado in giro così cosa sei? un creeper allora oggi papà non c'è perché lavorare purtroppo e abbiamo anche il nostro regalo però aspettiamo papà ok lo facciamo dopo ok? perché il nostro è una sorpresa una surprise ok ok so che ci sono ancora due tre regali che sono in viaggio arriveranno ad agosto sì tipo una pinta gigante esatto e eh eh nelle stories di instagram le facciamo vedere quando arrivano sì dobbiamo ringraziare anche per questo regalo che è per tutti vero Ena? che cos'è? dobbiamo ancora scoprirlo si chiama double double blie blie ok un gioco di percezione visiva e riflessi rapidi quindi dobbiamo scoprirlo e poi ve lo facciamo vedere ah bisogna trovare carte diverse e la stessa figura ah ecco ok tipo una stessa figura in carte diverse bene quindi grazie anche per questo regalo bellissimo ringraziamo Eile grazie ecco noi leggiamo i bigliettini che sono arrivati nei pacchetti vi volevamo dire che non tutti i pacchetti avevano biglietto quindi noi leggiamo ora leggiamo questi esatto vai tanti auguri buon compleanno goditi il tuo regalo da Giada Fransoi grazie Giada grazie un messaggio di auguri per te tanti auguri Dani buon compleanno un abbraccio da Raffaella grazie Raffaella grazie Raffa ciao Daniele questo è un piccolo pensiero per augurarti un buon compleanno un abbraccio a tutta la tua famiglia da Arianna Grassi grazie Arianna per tutta la famiglia che questo gioco possa farvi divertire e vivere momenti di spenseratezza pieni di risate proprio come fa noi siamo sempre con voi un bacio e abbraccio fortissimo ad Alessandra Menozzi grazie grazie cosa vuoi dire alle persone che ti seguono e ti hanno fatto tutti questi miei regali un super bacione e grazie grazie a tutti davvero per il vostro affetto al prossimo video ciao